Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi mercoledì 9 dicembre 2020, siete sul canale 17 di Fano TV, questa è l'informazione in diretta, sono le 7 come dicevo, buongiorno anche a coloro che ci seguono in replica nei nostri vari appuntamenti, sia in televisione che sui device, vari cellulari, internet e quant'altro. Cominciamo dal santo del giorno, andiamolo a vedere subito con il cartello oggi è San Siro di Pavia, il sole sorgerà alle 7.34, tramonterà alle 16.32, adesso uno sguardo al tempo. Il bollettino della protezione civile delle Marche per oggi prevede cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti locali alternati a schiarite e ampie durature, a Fano più o meno dovrebbe forse piovere nel corso del tardo pomeriggio, comunque altrove sono possibili occasionali piovaschi o brevi rovesci. Per la giornata di domani, giovedì 12, anzi 10 di dicembre, avremo cielo sereno poco ruboloso con temperature senza variazioni di rilievo. Durante il fine settimana il tempo sarà parzialmente soleggiato ma stabile. E adesso andiamo a vedere i giornali, cominciamo dalla prima del Carlino di Pesaro, la fotonotizia, gli infermieri se ne vanno. Questa è la foto che parla del concorso Lumaca nelle Marche, meglio l'Emilia Romagna. Mareggiata, l'acqua invade la pista ciclabile, si temono danni e smottamenti della pista. Pascucci, titolare dei Bagni Due Palme, dice sono abbattuto. E poi l'omicidio di Ancona, parrucchiere ucciso con nove coltellate, fermato un amico. I cinema, i cinema che sono chiusi per il Natale, niente cinepanettoni, dunque cinema spenti, i ristori, dicono i gestori, soltanto briciole. E poi, sempre dalla prima del Carlino, mascherine in classe, la rivolta dei genitori, sono state raccolte 1782 firme. E poi la strage di Corinaldo, commemorazione a Fano, Benniti, pensiamo abbracciata a mamma. Il Corriere Adriatico, la fotonotizia per lo sport, niente di grave, la VL è umana, Ario Costa minimizza la sconfitta di Treviso. E poi l'ospedale, l'ora delle risposte, la sicurezza del personale e dei pazienti nei due presidi di Marche Nord, le assunzioni e gli screening. I quesiti dei sindacati e altri un virato dell'azienda. E poi si parla del silenzio sui 41 posti aggiuntivi della terapia intensiva. Poi c'è un'intervista del Corriere Adriatico, questa mattina Taz, Tavio e il Covid, terza ondata e mascherine. Adesso parlo io. Poi sotto, Piazzale Cinelli, a Pesaro, il quartiere stoppa il privato. Sulla messa di mezzanotte, domani la diocesi di Pesaro decide in quali orari. E poi a Fano, nel nome di Benni, divertimenti sicuri, lottiamo per questo. Di taglio basso, la cronaca d'Ancona, nove coltellate all'amico, delirio killer, video ferneticante sui social per giurare vendetta, poi scatta l'agguato ma viene arrestato per omicidio. Un video delirante sui social pieno di insulti nei confronti di Michele Martedì. Il 26enne accoltellato a morte in via Maggini ad Ancona mentre rientrava a casa. C'è anche questo elemento al vaglio dei carabinieri che hanno fermato un coetaneo ed ex compagno di scuola della vittima. E poi si parla ancora di sanità sulla prima del Corriere, la chirurgia di Urbino vola, 250 interventi, salva costa. Le pagine interne. Parliamo del vaccino. Il vaccino che è lì, ormai sta per arrivare. Addirittura in Inghilterra ci sono stati i primi vaccinati. Il microbiologo dice e parla di questi vaccini come efficaci e sicuri. A giugno saremo fuori dal tunnel. L'ex direttore dell'EMA Guido Rasi dice il metodo dell'RMNA testato nei malati di cancro. Esclusi effetti collaterali dopo anni. L'autorizzazione europea, Pfizer tra poche settimane, l'Italia è in ritardo. No, anche Moderna e AstraZeneca avranno presto l'ok. Intanto sulla mossa londinese che ha giocato d'anticipo e che ha spiazzato tutti, lui parla, risponde così. È stata una furbata. Si sono procurati in Belgio un piccolo lotto di vaccini Pfizer e gli hanno attribuito un valore simbolico. Parliamo degli inglesi. Ma hanno somministrato per loro stessa ammissione un prodotto a scatola chiusa, ricevuto e approvato alla disperata dalla sera alla mattina. Intanto il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dice sono pronto a vaccinarmi anche in televisione. Il buon esempio del Presidente. Meno contagi. Veniamo alle Marche, in particolare alla provincia di Pesero e Urbino. Meno contagi ma risalgono le terapie intensive. Il titolo del Carlino di Pesero. I dati sono un po' in chiaroscuro. Cala il numero delle vittime e il rapporto tamponi positivi. Ma crescono i pazienti gravi ricoverati in rianimazione. Mentre sul Corriere Adriatico, titolo più o meno simile, rallenta il ritmo dei positivi. Rianimazioni a freccia in su. Nel bollettino di ieri quasi 300 contagi su 1.442 tamponi. Si scende a 1 su 5. 30 le persone dimesse. 87 invece i pazienti per le terapie intensive. Sono più 5 rispetto all'ultimo bollettino. 9 invece le vittime. Sempre alto anche il numero degli anziani nelle RSA. Intanto la notizia che il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, è risultato negativo anche al secondo test, al secondo tampone molecolare. Per lui dunque isolamento finito, quarantena finita. Torno al mio posto in regione. Dice lui, sono stato fortunato. Non so come ho fatto a non ammalarmi. Mia moglie, che invece è positiva, dice dobbiamo rimanere separati. Abbiamo fatto pranzo insieme con una videochiamata. Lo screening di massa. Questa è un'altra notizia importante che oggi trova spazio sul Corriere Adriatico. E' lo screening che dovrebbe scattare dal 18 al 23 di dicembre. Si partirà dai capoluoghi di provincia, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli e Fermo, ai quali si aggiungerà anche la città di Urbino. E da una cifra, che sono i 2 milioni e 200 mila tamponi antigenici rapidi, che arriveranno proprio sul filo al 18 di dicembre. La fornitura dovrebbe essere più che sufficiente a coprire i 900 mila marchigiani, quindi quasi un milione e 900 mila marchigiani, che ci si aspetta, che accettino di sottoporsi al test, secondo le previsioni della Regione, che è sostenitrice di questa missione prevenzione. Dunque uno screening di massa, per la quale c'è una copertura notevole. Abbiamo visto 900 mila marchigiani potrebbero essere, come dire, potrebbero avere questo test. L'unica cosa che va detta è che il test non è obbligatorio e quindi ci si aspetta perlomeno un'adesione importante da parte dei marchigiani. Sulla terza ondata invece, andiamo sul Corriere Adriatico, c'è un'intervista al primario di infettivologia della Torrette di Ancona, che sulla terza ondata dice, ora finiamo questa, non c'è bisogno di evocare una nuova ondata se non siamo ancora fuori da quella che stiamo vivendo, dunque la seconda. I giovani invece vanno responsabilizzati, devono salvare il lavoro dei padri. Dice poi sulle mascherine, 8 su 10 sì, la portano, ce l'hanno, ma 7 la portano praticamente male, quindi come se non servisse a nulla. Non ci si può lamentare delle restrizioni se non ci si autoregolamenta e poi sono ottimista, si era parlato di vaccino in 12-24 mesi, invece dopo un anno siamo qui e quindi siamo nei tempi. Sicurezza e contagi, personale, le grandi falle di Marche Nord. Un articolo sul Corriere di questa mattina, i quesiti dei sindacati sulla gestione dell'epidemia e sull'esclusione dei guariti dallo screening per gli operatori. Silenzio su una domanda chiave, a che punto siamo con i 41 posti di terapia intensiva promessi a dicembre. E poi a Medicina, ospitata al Santa Croce, dichiarato presidio pulito, registrati 33 contagi tra pazienti e lavoratori in chirurgia, tampone positivo, anche per il primario Alberto Patriti. Ora all'ospedale di Fano però è covid free, virus free. Ipotesi exit strategy, cioè uscita strategica per Natale, mezzo sì alla mobilità tra i Paesi. Di che cosa si parla in questo articolo? Si parla di quel, chiaramente del DPCM del Governo, che metterebbe un po' in difficoltà soprattutto i piccoli centri. Perché quando parliamo di non potersi spostare il giorno di Natale tra un Paese e l'altro, pensiamo però ai piccoli centri che sono in crisi. E per esempio, se andate, scrive il Corriere, a San Ginesio, in provincia di Macerata, c'è una strada al confine del territorio comunale, dove il lato sinistro della via è appunto di San Ginesio. Quello destro, ma di una via parliamo, appartiene Sant'Angelo in Pontano, comune limitrofe. Comune limitrofe. Ora, secondo questo DPCM, a Natale, Santo Stefano e a Capodanno, quella strada non si potrà attraversare. Pena, multa, salatissima e segnalazione. A meno che non sussistano motivi di salute, lavoro o necessità, tipo la visita a un parente non autosufficiente. Di più non sarà garantito. Però ecco, questo è l'esempio classico, ma ce ne sono migliaia di questi esempi di piccoli comuni, che sono limitrofi, quindi uno attaccato all'altro, e piccoli però, molto piccoli, dove addirittura si parla di vie a delimitare il tutto. Ecco, su questi si pensa a una exit strategy, cioè una situazione di strategia di emergenza, una strategia di uscita che chissà se si riuscirà a trovare. Mascherine in classe, invece, sembrava ormai sopito questo discorso, questa polemica. In realtà no. Il comitato, nato spontaneamente di genitori, ha continuato a lavorare, a raccogliere firme in tutta la regione Marche contro l'obbligo di queste mascherine all'interno delle classi. E ora questo comitato chiede anche un incontro ad Acquaroli. Vanno ripristinate le vecchie disposizioni e presidi va data la discrezionalità. Quindi anche su questo vedremo se poi la regione allenterà un po' la morsa. Andiamo sulla pagina 15 del resto del Carlino. Si parla, e qui siamo a Fano, di una tassa, la Tari. Qui le imprese pagano il doppio, Confindustria schiera agli avvocati. Enormi differenze rispetto a Pesaro, Colle il Metauro, eppure anche a Senigallia. Certe bollette sono il 10% praticamente del fatturato. I baldarelli della CNA dice che il motivo delle disparità è che a Fano non hanno applicato le determine del Ministero. Sulla messa di mezzanotte il Corriere Adriatico titola la messa anticipata in ballo due diverse soluzioni orarie. C'è chi indica le 19 e 19.30 e chi l'ora invece successiva, quindi 20 e 30. Domani però incontro in Diocesi a Pesaro per la decisione definitiva. La pagina di Fano invece del resto del Carlino, lacrime e palloncine per Benni. Benni è Benedetta Vitali, una delle vittime della tragedia di Corinaldo. Toccante cerimonia in piazza 20 Settembre per ricordare la 15enne fanese. E poi la fotografia con la famiglia Vitali, il sindaco Massimo Seri, le amiche di Benedetta, i palloncini bianchi. Francesco, il fratello di Benni, ha voluto ricordare non solo la sorella ma anche la mamma, la mamma Cinzia, che se n'è andata ad agosto di quest'anno immaginando entrambe lassù, abbracciate e serene. Mamme Benni, non esiste giorno che non vi pensiamo, dice Francesco. E poi stasera la veglia invece per Asia Nasoni, un'altra ragazza che è morta quella tragica notte. In contemporanea anche a Frontone è stato ricordato Mattia Orlandi. Alle 18.30 a Frontone si è riunita in piazza del municipio sotto l'albero di Natale per non dimenticare quanto accaduto a Corinaldo e per ricordare appunto con la famiglia Orlandi il 15enne Mattia. Poi altre, chiaramente altre iniziative sempre nei paesi, nei comuni interessati a questa tragedia. Anche il Corriere Adriatico di Fano, il titolo Ciao Benni, lottiamo nel tuo ricordo, divertimento sicuro, uniti è possibile. Il giorno di dolore, preghiera e speranza. L'iniziativa di amministrazione comunale Comitato Genitori del Nolfi in questo articolo si parla appunto di quello che è successo ieri in piazza 20 settembre sotto l'albero natalizio una iniziativa organizzata dal Comune, dal Comitato dei Genitori Uniti che coinvolge anche alcuni studenti fanesi del Liceo Nolfi, lo stesso frequentato da Benedetta. Di taglio basso invece lezioni in presenza, sempre dalla pagina di Fano, la nuova lotta di classe organizzazione didattica bloccata comunque fino al 7 di gennaio, Giombi chiede impegno. A Sassonia invece di Fano si rifà finalmente il LUC la giunta ha stanziato circa 250 mila euro per gli arredi urbani di Carrara, Tombaccia, Lido e Lungomare la zona al di là del porto rappresentava da anni una pessima cartolina turistica per tutta la città di Fano mentre sull'Interquartieri il Partito Democratico va in pressing sul Sinaco Massimo Seri c'è chi sulla variante di Gimarra frene e chi invece invita a spingere sull'acceleratore e questo è il caso appunto del PD con i consiglieri comunali Clini, Giacomoni, Luccioli e Marchegiani che alzano appunto il pressing nei confronti del Sindaco. Poi sulle sale da bullying invece, dimenticate, a Fano ne abbiamo una come così si chiude dice Marco Ragaini che è gestore dello Sport Park di Fano che guida la rivolta i DPCM ci trattano come locali per le slot e non prevedono alcun ristoro di male in peggio ci hanno fatto riaprire solo d'estate che per noi è davvero il periodo peggiore. Poi sulla pagina 11 invece del resto del calino quella brutta vicenda che riguarda il pitbull l'animale, il cane ucciso a fucilate da un cacciatore un testimone accusa quel cane ha morso il cacciatore e stava ammazzando il suo cane azzannandolo alla gola non c'era altra scelta dunque spunta oggi un testimone su questa brutta vicenda ho visto tutto, dice e non si nasconde la sua versione cambia dunque la prospettiva sull'uccisione del cane di razza pitbull di nome Zoe avvenuto qualche giorno fa nelle campagne intorno a Gradara il testimone si chiama Danilo Mancini ed è il titolare dell'azienda agricola Mancini di Granarola ora è suo il terreno dove è stato ucciso questo cane con un colpo di fucile sparato da un giovane cacciatore dopo essersi sentito minacciato da questo pitbull che è uscito dalla recinzione del suo padrone e lui ha raccontato un po' come sono andati i fatti che cambiano un po' la questione invece queste sono le fotografie che pubblica il resto del Carlino di oggi sulla cronaca di Pesero e che sono piuttosto eloquenti l'acqua del mare, vedete, invade la pista ciclabile davanti ai bagni due palme a Pesero la ciclabile rischia il crollo ieri l'acqua è arrivata alla massicciata della ferrovia Riccardo Pascucci dice non so cosa troverò in piedi praticamente domani mattina non ha molta voglia di parlare perché dice io sono molto abbattuto dice l'ex assessore Riccardo Pascucci titolare dei bagni appunto due palme proprio all'inizio della pista ciclabile Pesero-Fano perché il mare di Levante non fa l'effetto folcloristico della schiuma e della lavatrice ma scava e soprattutto fa danni perché il mare si è gonfiato e ha raggiunto appunto la ciclabile a Villa Fastigi invece entrano in casa e rubano una cassaforte con cinque fucili da caccia ed è stata rubata in via Achilli a Villa Fastigi il fatto risale a sabato scorso Vallefoglia più di 250 interventi a novembre l'equip di Cicetti qui siamo a Orbino salva la costa l'unità complessa ducale sta assicurando tutte le operazioni chirurgiche e ortopediche e ovviamente Pesero ringrazia perché in questo momento Pesero come sappiamo è impegnato sul fronte Covid no mascherine al banco 2.000 firme per Acquarori il Comitato salvaguarda la salute degli studenti sollecitare il Ministero Urbino le vie dei presepi in 94 diversi punti spettacolo diffuso nel cuore ducale oltre 100 le creazioni che sono visibili dall'esterno a cura delle associazioni dei privati e delle proloco mentre a Urbino c'è stato qualcuno ha fatto un operativo in più stangati quattro clienti beccati al tavolo multato il barista coprifuoco e senza maschera raffica di sanzioni da parte della Polizia dunque attenzione perché proseguono i controlli i controlli anche nel fine settimana Encomio per Magalotti voto unanime in consiglio la proposta di Laura Scalbi apre anche al potenziamento della Breast Unit di Senologia a Urbino il Carlino invece titolo maffè il bilancio del Comune sano i conti pubblici locali sono in equilibrio nonostante le difficoltà del periodo al via nuovi bandi per aiuti al territorio anche qui la Polizia fa i controlli sanzionati in centro e nei paesi limitrofi ad Urbino da Fano palestre dimenticate riapriteci silenzio assordante per un settore che in provincia assicura lavoro a centinaia di persone e a migliaia di utenti Angeli dice pochi coloro che hanno ricevuto aiuti e per piccole cifre a Ghemo invece a gennaio si riparte oppure sarà rivolta le palestre dunque di Fano sono nel limbo ma un po' tutte le palestre non solo quelle di Fano della pandemia per i loro gestori il nuovo stop precauzionale in vigore dell'ultima settimana di ottobre è quasi un girone infernale zero incassi ma spese che corrono lo stesso perché ci sono le bollette gli affitti le assicurazioni oppure i mutui che sono stati contratti per migliorare l'attività e poi da Fossombrone strada sconnessa disabile cade e si ferisce l'uomo in carrozzina stava tornando a casa per via la speranza 24 anni per una pratica edilizia sempre da Fossombrone record per chiudere una sanatoria il proprietario del Capannone vuole chiudere il caso ma perché ha trovato un affittuario la replica del sindaco sono d'accordo che la vicenda si è ormai trascinata da troppo tempo a giorni però il tutto sarà definitivo intanto a Cagli il ristoratore Guido Sabatini 52 anni muore improvvisamente si è spento nel sonno gestiva il locale ostinati lascia moglie e due figli la salma è stata ricomposta al Celli per dar modo ai tanti amici e parenti di far visita e dare l'ultimo saluto in serata non era stata ancora comunicata la data il luogo e l'ora delle esequie mentre a Fermignano una classe finisce in quarantena i bambini dell'elementare e le insegnanti a casa perché è stato trovato un positivo intanto a proposito di Fermignano i nuovi positivi al virus calano e questa è dunque una buona notizia da Marotta la Croce Rossa nazionale premia l'inossidabile Seri al 93enne fondatore del Comitato di Marotta la medaglia di bronzo al merito nel 1987 diede vita al progetto partendo da una stanza a Villa Valentina e una vecchia peso 504 a Cartoceto invece luce e colori per un Natale dop così la proloquo illumina le feste a Cartoceto doppia iniziativa in centro storico e in piazza a Lucrezia e poi a Marotta guardate questa bella fotografia sul mare d'inverno un maxi arcobaleno il sindaco barbiere ha postato ieri sul suo profilo facebook un'immagine scattata dal balcone di casa a colpire l'attenzione del primo cittadino uno splendido doppio arcobaleno un arco completo dai colori molto vividi ed è un vero e proprio spot per Marotta città del mare d'inverno mi auguro sia anche un segno di speranza così almeno l'auspicio scritto dal sindaco poi Mondolfo pronti 95 mila euro in buona spesa domande al via da oggi ecco i requisiti e le modalità di partecipazione per questo bando l'assessore Andreoni dice una forma di aiuto concreta ma ovviamente che non sarà esaustiva sul Corriere Carlino ci sono i numeri di telefono buone spese in sette comuni da oggi via alle richieste qui lo stesso da Mondolfo il fondo è finalizzato all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità croce rossa medaglia di bronza per seri lo storico padre fondatore il comitato marottese insignito a livello nazionale a Senigallia invece sorpresa rubare la spesa scoppia in lacrime una cinquantenne una donna di cinquant'anni è stata notata dai vigilantes che hanno allertato i carabinieri e lei ha raccontato vive un momento difficile ha detto la signora e quindi è scoppiata in lacrime davanti ai poliziotti la donna è stata denunciata per furto aggravato ieri dopo le 11 il personale di vigilanza del centro commerciale il maestrale ha chiesto l'intervento di una volante all'ipercop dalle telecamere di videosorveglianza che ci sono nei centri commerciali ma in particolare nei supermercati uno non ci fa caso ma tutte le corsie sono praticamente sorvegliate videosorvegliate palmo a palmo quindi chi pensa di andare lì e mettere dentro la borsetta anche una sola caramella insomma sappia che sono controllati tutti quanti i clienti si tratta di una cinquantenne residente a Falconara Marittima la donna aveva appena pagato la spesa aveva acquistato merce per 50 euro all'inizio aveva fatto finta di non capire poi si è resa conto di essere stata scoperta di scoppiata in lacrime e dalla borsa sono usciti i generi alimentari cosmetici per un valore di 200 euro sempre dalla cronaca di Senigallia del Carlino lupi in azione uccise delle pecore allarme tra gli allevatori e i carabinieri forestali che consigliano di non lasciare all'esterno dei piccoli animali perché i lupi insomma fanno il loro mestiere quindi quando hanno fame mangiano lo sport Fano ecco un recupero cruciale per il rilancio al Mancini arriva il Legnago i Granata devono confermare i progressi visti nel derby con il Pesero i recuperi di oggi sono Fano Legnago alle 15 e Fermana Arezzo sempre alla stessa ora per quanto riguarda la classifica non l'abbiamo mai guardata in rassegna stampa ma tanto per dare un'idea vedete il Fano è molto in basso a quota 6 punti con la Vispesero che ha 12 l'unica marchigiana che sta bene insomma è a buon punto è la Samba con 24 mentre Matelica 19 punti l'altra pagina del Corriere Adriatico una pagina in ricordo dell'ex presidente Gianni Gentili che ci ha lasciato qualche giorno fa ciao presidente sei stato davvero il numero uno questo è il titolo gli ex giocatori del Fano dei miracoli ricordano con affetto Gianni Gentili scomparso domenica Barbaresi Cazzola Cornacchini ripercorrono gli anni con il patron e queste sono le foto d'epoca che pubblica in questa pagina il Corriere Adriatico di oggi Vis pensa alla salvezza Marchi spiega la frase Sibillina detta ai tifosi dopo il derby ma il presidente non c'entra niente io di solito ci metto la faccia e così ho fatto anche stavolta e ora concentriamoci sul Limolese Costa invece cancella il K.O. di Treviso dice niente di grave siamo umani il presidente della VL ribadisce la sua soddisfazione per quello che la squadra sta facendo e con questa notizia di sport chiudiamo qui la nostra rassegna stampa ci sono alcuni avvisi che devo darvi allora riguarda ovviamente riguardano la programmazione di Fano TV per la giornata di oggi alle 16.30 una puntata speciale davvero interessante di esplorare i confini si parlerà del canto quinto del purgatorio di Dante Leghieri dove c'è anche Fano quindi fanesi e non solo marchigiani coloro che amano la cultura un appuntamento importante quest'oggi alle 16.30 in collaborazione con il Circolo Bianchini una bella trasmissione poi alle 18.30 invece per i più piccoli abbiamo Babbo Natale in diretta anche questo un successone come ogni anno tantissimi bambini da ogni angolo delle marche che chiamano il pomeriggio in diretta per parlare con Babbo Natale poi questa sera invece alle 20.30 l'appuntamento con il nostro telegiornale e quindi l'informazione di occhio alla notizia grazie per averci seguito buona giornata a tutti